Pochi giorni dopo il nostro servizio sul canale Sarconi, il canale che attraversa Olla dalla zona orientale, un canale di scolo, gli inservienti del comune sono intervenuti per ripulire l'intero tratto, un tratto che era pieno di erbacce e anche arbusti oltre a rifiuti. In 24 ore i tecnici comunali hanno ripulito il canale così da renderlo fruibile e meno pericoloso. Stesso discorso per alcuni affluenti del fiume Danagro, in un caso sono stati trovati degli pneumatici, in un altro addirittura un divano. Restano come problema per quanto riguarda i tratti fluviali di Polla, gli isolotti nei pressi del Ponte Romano, anche se occorre dire che in questo caso non è competenza del comune, ora guidato dal vice sindaco Massimo Loviso, bensì dalla regione, quindi dal genio civile e da tempo ci sta una vera e propria lotta per cercare di eliminare questa problematica. Ci sono stati anche dei finanziamenti, oltre a diverse promesse, ancora non mantenute.